Allora, siamo ritornati qui con Giuliano Marchesini, stiamo parlando con Unicarve di garanzie nella qualità del prodotto. È fondamentale che quando parliamo di alimenti di cui ci dobbiamo nutrire, l'attenzione alla qualità, alla genuinità, al fatto che sia un prodotto sano è fondamentale. È che molti telespettatori ci scrivono e ci dicono che non hanno gli elementi veri di fiducia, di certezza, si manca qualcosa nell'ingranaggio di questa filiera produttiva. E anche chi vorrebbe in qualche modo capire qualcosa in più non sempre ha gli strumenti sufficienti. Quindi a voi un po' resta in mano la questione. Voi siete più interessati, perché produttori, a dare questa possibilità, questo messaggio, eccetera, dov'è che il meccanismo si intoppa? Sulla sostituzione del prodotto, ovvero parliamo di grande distribuzione. La grande distribuzione sta cercando in tutti i modi di mettere il suo marchio privato su tutti i prodotti che, come c'è dita, soprattutto sui freschi, sui freschissimi. Il famoso private label. Il private label, esatto. Perché questo? Perché va alla ricerca di fornitori, da qualsiasi parte, quindi possono essere fornitori provenienti da qualsiasi parte del mondo, cerca il prezzo, quindi il minor prezzo, e poi ci mette il suo marchio, valorizza il suo marchio e quindi il consumatore compra perché ha un marchio in mente che è quello che gli viene proposto con la pubblicità radiofonica piuttosto che televisiva. Noi dobbiamo fare in modo che il nostro prodotto non sia sostituibile, ovvero che abbia un marchio che abbia quindi un riconoscimento. Ma non solo per una mera questione commerciale, ma anche per dare delle informazioni, delle indicazioni ai consumatori. Allora, faccio un esempio. Se entro in un negozio e devo acquistare uno yogurt, guardo le confezioni che mi trovo sul banco frigorifero. Certo che se ho uno yogurt di mille colori con la confezione, ma che mi arriva dal Peru, probabilmente fatico un po' a comperarlo e prediligo se trovo quello di Soligo o di latte busche o delle vicentine o delle friulane perché sono latterie che sono del territorio. Io sono veneto e quindi prediligo quel prodotto là. Ma loro hanno la possibilità di esporre un marchio. La carne, marchi, non ne ha? Infatti. Infatti, se noi andiamo nelle macellerie non esiste un marchio. L'unica pubblicità che vediamo per televisione oggi è Montana e Simental. Ti ho leggo però. Ma sono canne e scatola, ok? Allora, noi, il nostro sogno è quello di poter comunicare al consumatore quando il disciplinare del vitellone e cereali sarà definitivamente approvato e il nostro marchio che abbiamo registrato, che regaleremo al Ministero delle Politiche Agricole, comincerà a girare negli spot tv, dire al consumatore che il sigillo italiano è il sigillo, è il marchio che... Eccolo qua. Questo è qualità verificata, che comunque il sigillo italiano è quello a livello nazionale, questo è a livello regionale, qualità verificata, quindi approvato dalla Regione Veto, tu cerca questo marchio e troverai i nostri prodotti. Adesso non c'è. Allora, qualità verificata è fatto in quattro colori. Il rosso è per la carne, quindi carne di vitello, carne di vitellone, carne di coniglio, ovi caprini e via di scorrendo. C'è quello verde per la verdura, quindi per le produzioni orticole, c'è quello azzurro per il pesce, e quello azzurro per il latte e quello blu per il pesce. Ecco, allora noi abbiamo la possibilità, eccoli qua, li vediamo tutti e quattro, abbiamo la possibilità di trovare per quei prodotti che ho detto prima, al riconoscimento della territorialità, quindi del Veneto in questo caso. Oltretutto questo marchio può essere abbinato e verrà abbinato al marchio del turismo veneto, tra la terra e il cielo, cioè la stella a sette punte, che sono i colori delle sette province del Veneto, con il leone di San Marco, e quindi sarà ancora di più riconoscibile da parte del consumatore. E questo per un discorso territoriale nel Veneto. Poi, a livello nazionale, lo stesso disciplinare potrà fregiarsi anche del riconoscimento del Ministero delle Politiche Agricole, quindi bandierina italiana, logo della Repubblica, Ministero delle Politiche Agricole, per comunicare al consumatore che è il vitellone e i cereali, quindi è un prodotto nazionale, ovvero fatto dai nostri elevatori. Ecco, mi chiedo, ma c'è un interesse a questo punto di taglia paese, quello che si chiedono anche tanti, nell'andare a tutelare il Made in Italy, visto tutte le difficoltà, viste quegli accordi che sono stati fatti, di cui parlavo anche prima a livello internazionale. Sembra che questo interesse non ci sia, non ci sia in Europa, non ci sia nel mondo, se ne parla tanto, però poi alla fine avremmo dovuto già prendere da un bel po' di tempo questi provvedimenti, invece ancora stiamo parlando in proiezione futura, e nel frattempo siamo nella crisi che siamo. E' perché abbiamo gente un po' miope nei posti chiave della politica e anche a livello tecnocratico, sto parlando in questo caso di Europa, quella che noi conosciamo. Il Made in Italy è il terzo marchio conosciuto a livello mondiale, il primo è quello della Coca-Cola, poi c'è la Nike e dopo c'è il Made in Italy. Ecco, se noi facciamo un quadrato attorno al marchio e smettiamo di farci del male, perché non c'è talk show, non c'è trasmissione, non c'è articolo del giornale che dice che l'Italia è un paese allo sbando, è alla rovina, è in distruzione e via discorrendo, ecco io ricordo a questi signori che l'agricoltura, al di là e nonostante la crisi, ha arato i campi, ha seminato, continua ad andare a mangiare i bovini, continua a levare, continua a portare sulle tavole, intanto degli italiani, cibi e prodotti ogni giorno. Quindi dovrebbero essere fatte anche delle scelte di carattere di politica economica in maniera tale da dare una mano a questo settore che poi può mettere in moto anche tanti altri. agricoltura e turismo credo che siano un binomio fantastico per il nostro paese considerando montagne, mare, laghi, campagna, paesaggi e soprattutto opere d'arte. No, infatti questo assolutamente, bisogna che se ne faccia una ragione anche, cioè che operativamente si vada a realizzare questo. Quando si parlava di marchi, che tempi ci sono perché le persone possono trovare questi marchi di conoscibilità in giro nella distribuzione in generale? Allora, il marchio regionale e anche quello nazionale, cioè il disciplinare, è stato già inviato a Bruxelles perché c'è un periodo di verifica da parte dell'Unione Europea dove ogni paese può esprimersi sulla proposta che è stata fatta in questo caso dalla Regione Veneto e dall'Italia. Siamo un po' in ritardo, siamo molto in ritardo, ma contiamo che il 2014 sia il cosiddetto anno del raccolto. Noi abbiamo seminato, è da anni che seminiamo. Per carità, seminiamo, c'è anche chi va a diserbare subito dopo che noi abbiamo messo la semente, però il valore delle idee non si discute e quindi pian piano anche i più riottosi stanno capendo che ciò che noi abbiamo proposto è valido e va sostenuto. Cominciamo a avere dimostrazione, soprattutto quest'anno, che è l'anno della svolta perché la politica ricola comunitaria dal 2015 cambia, anzi dal 2014 perché ormai è deciso e quindi il progetto che noi abbiamo ideato ancora anni addietro, stiamo parlando quando ancora c'era ministro Zaia, quindi figurarsi quanto tempo e quanti ministri sono passati nel frattempo, quasi uno ogni nove mesi abbiamo fatto i calcoli noi e quel progetto là è validissimo e adesso dovrebbe vedere la luce. Forse è maturo come progetto. Si chiama Piano Carni Bovine Nazionale che potrebbe essere, diciamo così, mutuato anche da altri settori tipo il suino, tipo il coniglio che sono in crisi. Ricordiamoci che noi siamo importatori netti di carne sia di bovino sia di suino e importiamo oltre il 40% di carne dall'estero, quindi quote di mercato da recuperare ne abbiamo e un'informazione che diamo ai consumatori è che una bistecca su due arriva dall'estero. Sfidiamo i consumatori a riconoscere quella che arriva dall'estero da quella prodotta... Cioè sappiamo che vabbè la produzione, la nascita è all'estero, non in Francia perlopiù. Quando parlo di carne proveniente dall'estero intendo carne di bovini nati, allevati e macellati all'estero, mentre il nostro sistema di allevamento italiano prevede una permanenza, quindi il cosiddetto allevamento vero e proprio, una permanenza di 6-7 mesi, 5-6-7 mesi a seconda della razza del bovino nelle nostre stalle, alimentato a cereali con le caratteristiche che dicevo prima, in maniera tale da poter dare dopo della buona carne, insomma. Quindi noi ci approvvigioniamo soprattutto in Francia perché loro hanno pascoli, vacche nutrici e quindi fanno molti vitelli. Prendiamo il vitello una volta che è stato svezzato dalla mamma, che è stato il pascolo, eccetera, lo portiamo alle nostre stalle e questo è il periodo di allevamento. Difatti nelle etichette noi troviamo nato in Francia, allevato Francia-Italia, macellato Italia, sezionato Italia e dopo commercializzato in Italia. Se però troviamo nato in Francia, allevato in Francia, macellato in Francia, significa che quella carne non è stata prodotta nel nostro territorio. Detto questa realtà, la Francia è nell'Unione Europea, quindi uno dice teoricamente, una persona che non ha cognizioni profonde di normative, eccetera, però così ha senso, sei nell'Unione Europea e sai benissimo che devi rispettare un certo tipo di normativa. Mi ricordo fino a poco tempo dietro, magari molti hanno memoria, quando la Croazia non era nell'Unione Europea, passavi il confine, se detenevi della carne, importavi determinati prodotti, non insaccati, eccetera, poteva essere un problema una volta che entravi in Italia, no? Proprio perché non faceva parte dell'Unione Europea. Quindi, se la Francia è Unione Europea, se siamo in questa grande Europa che dovrebbe dare delle garanzie anche per tutti i prodotti, che ci dà tante sanzioni, se non stiamo attenti, eccetera, quale problema dovrebbe esserci che sia Francia o che sia Italia, al di là della tutela del nostro made in tutto quel che si vuole, ma perché c'è una differenza? Ma guarda, sostanzialmente, io faccio un esempio, mi piace ragionare per esempio in maniera tale a far capire le posizioni. Ecco, noi per il rispetto della condizionalità della direttiva nitrati, no? Che significa rispetto dell'ambiente, l'utilizzo dei liquami, delle tame e tutto il resto, no? Produciamo, perché la Regione ce lo chiede, 100 pagine di documentazione dove andiamo a dichiarare anche la goccia dove va distribuita o come viene utilizzata. In Francia usano tre pagine per fare ciò che facciamo noi. Quindi c'è una normativa diversa? No, la normativa stessa, ma c'è un modo di interpretarla che è diverso. In Olanda ci sono allevamenti senza terra, dove va a finire il refluo del bovino, il letame, il liquame e via discorrendo. Ecco, ci sono situazioni che sono completamente diverse. Allora, noi non è che stiamo dicendo che la carne degli altri è peggiore, per carità, assolutamente. Noi vorremmo dare la possibilità ai consumatori di poter riconoscere la carne del loro territorio. Cioè, questo fa sì che poi si possa anche arrivare a dare delle informazioni ai produttori per migliorarla. Perché se in un punto vendita io ho la carne di Tizio, di Caio, di Sempronio e poi alla fine comincio a chiedere al macellai, ma quella che ho mangiato ieri dell'azienda X l'ho trovata più buona dell'azienda Y, cominciamo anche a fare un discorso di miglioramento produttivo, cioè di informazioni da dare al produttore per migliorare ancora di più la carne. Perché a volte troviamo la bistecca dura, troviamo la bistecca tenera, troviamo la bistecca saporita, quella meno saporita, perché la carne, ricordiamoci, non è un prodotto fatto con lo stampo di plastica, è un prodotto vivo che deriva dal sistema che ognuno degli elevatori adotta. Ecco perché noi diciamo, lavoriamo con un disciplinare di produzione in maniera tale che ci sia una standardizzazione del sistema e poi si possa solo migliorarlo quel sistema, perché se vediamo che con quel disciplinare, con quel tipo di razione alimentare, di alimentazione, di benessere animale, di situazione di allevamento, la carne è buona, poi si può solo migliorare quel prodotto. Però dobbiamo fare in modo che il consumatore la riconosca, perché se domani mattina mi arriva un prodotto dall'Alaska che mi viene venduto come fosse prodotto dal territorio, allora tutto ciò che abbiamo detto va a farsi bene bene, esatto. Allora detto questo andiamo subito in pubblicità, poi ritorniamo con voi.